Dopo settimane in cui l'epicentro del contagio covid è stato il capoluogo di regione, l'Aquila e la sua provincia, nelle ultime ore l'occhio del ciclone sembra essersi spostato lungo la costa e pescara infatti la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore. 46 segue a ruota Chieti con 39 e poi Teramo con 38. C'è anche Montesilvano in questa non bellissima classifica con 24 contagi. In totale sono stati 536 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 4.663 tamponi, dunque risultato positivo l'11,49% dei campioni analizzati, percentuale più bassa registrata a novembre. Si registrano purtroppo 18 decessi ma solo 15 sono recenti, per altri tre infatti le ASL hanno comunicato soltanto oggi la morte dei pazienti. Primi segnali positivi anche sul fronte ricoveri con il numero dei pazienti in ospedale invariato rispetto a ieri. 672 pazienti sono ricoverati come detto in ospedale in terapia non intensiva e 71, anche questo numero invariato, in terapia intensiva. Al momento è occupato il 42% dei 169 posti letto disponibili nelle terapie intensive delle quattro ASL. Attualmente positivi sono 307 in più e salgono a quota 16.656, gli altri 15.913 positivi più 307 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, mentre i guariti sono 7.344 in aumento di 209 unità. La curva epidemica quindi sembra iniziare a scendere e la zona rossa funzionare e bisognerà aspettare i primi di dicembre per capire se ci sarà un allentamento delle misure restrittive. Qualche primo segnale da questo punto di vista si comincia a notare ma insomma dobbiamo farlo consolidare nei giorni e nel tempo per poter cominciare a tirare delle conclusioni. C'è poi tutto il capitolo dedicato ai test rapidi e allo screening nell'Aquilano. Si lavora per estenderlo anche alla provincia di Teramo che al momento, dati alla mano, è la più colpita. Sulla provincia dell'Aquila è già partita la macchina organizzativa, sta partendo anche su Teramo, ne stiamo parlando con il direttore generale e quindi la nostra intenzione è quella di procedere con questo esperimento già fatto a Bolzano per individuare quanto il maggior numero possibile di soggetti positivi, particolarmente gli asintomatici che sono quelli più difficili da individuare e così evitare che la loro circolazione continui a diffondere il contagio sul territorio.